Infrangere le regole è il suo mestiere. L'americana Lisa Yuskavage infrange quel della pittura degli anni 90. Con buona pace invece per la critica per le sue donne Prosperovese e Lascive. I suoi soggetti femminili, elevate grazie alla pittura, sono figlie dell'immaginazione, alimentata da riviste porno degli anni 70. Le sue opere creano una tensione erotica ed emotiva dove le donne non sono troppo educate ma drammaticamente irriverenti.